In questo incontro, come dire, chiarificatore su alcune azioni che si stanno portando avanti a livello nazionale, ma che si riproportano ovviamente anche a livello locale, è opportuno fare una riflessione, anche così alla luce degli ultimi eventi sismici, di quella che è la situazione relativa alla pianificazione territoriale generale italiana, in particolare di Regione Lombardia, per quanto riguarda la prevenzione del rischio sismico. Prevenzione del rischio sismico che evidentemente colpisce la filiera dell'edilizia e quindi un rinnovo del parco edilizio necessario, una maggiore attenzione a quello che sono anche le politiche del riuso del patrimonio esistente, sempre l'edilizio e di conseguenza una necessaria attenzione che l'ingegnere per propria formazione culturale possiede e che chiaramente deve comunque affinare e soprattutto quello che ci si aspetta è che il contributo dell'ingegneria italiana sia sempre più efficace in ausilio proprio a quelli che sono gli strumenti di programmazione, anche politica e anche di attuazione economica degli interventi necessari a questa ripresa.